La missione è grado 14 persone e 3 macchine Abbiamo visto tutta la scena Fortunatamente siamo riusciti a intervenire A proteggere la colonna e a farla rientrare Tutti questi bambini che arrivano intorno E tu lì il pilota da combattimento La scendere appunto quella discesa perchè Mono è su una collina Grazie a Mano Ah, ha chiesto il mio Mono Grazie a tutti Non l'avevo mai vissuta e quindi un po' ho capito in Afghanistan Il pericolo può essere in ogni parte Il ricordo più bello che ho dell'Afghanistan è sicuramente quello di stare assieme ai compagni di squadra E affrontare le difficoltà assieme